e dopo una lunga lunga pausa torniamo con conversazioni bibliche e come sempre con il nostro carissimo amico padre ernesto della corte che è già pronto in via skype dovrebbe essere già pronto via skype padre ernesto non c'è eccomi sorpresa e sono rimasta un po senza parole ho visto una poltrona vuota bentornato padre siamo tornati buona pasqua della settimana buona pasqua della settimana a te mi hai preso un colpo c'è mancato questo appuntamento è vero ma tanti tantissimi telespettatori padre ernesto però mi hai fatto prendere un colpo a vedere quella poltrona vuota è questo per dire quanto importante che ognuno di noi di alla sua presenza gli altri noi certe volte lo dimentichiamo questo quindi era un piccolo scherzetto per dire quanto è importante la persona le persone care sono importanti la loro presenza arricchisce la nostra vita è vero questa persona per noi grazie alla televisione ci raggiungiamo tutte le nostre amiche e nostri amici e finalmente torniamo torniamo insieme dopo insomma questo primissimo questa primissima sorpresa che ci hai fatto ovviamente io a nome di tutti posso dirti che ci sei mancato tantissimo anche voi anche voi mi siete mancati questo appuntamento per me è veramente un'occasione perché io possa dire a me stessa quanto è bella la parola di dio e quanto ci fa crescere e quindi riprendiamo il nostro cammino subito dopo la festa di san pio da pietraucina è vero e cominciamo subito un piccolo brano quest'oggi della liturgia che però è molto intenso e merita di essere sottolineato soprattutto meditato ovviamente con il tuo aiuto sì una piccolissima parabola perché poi in queste domeniche matteo stiamo leggendo il suo grandissimo vangelo lui che è lo scriva sapiente come si dice al capitolo 13 ci sta raccontando delle parabole che sono davvero straordinarie peccato che abbiamo perso quella di domenica scorsa con quel denaro dato a tutti gli operai ma in definitiva i primi saranno ultimi e gli ultimi saranno i primi queste espressioni che abbiamo sentito anche domenica scorsa di fatto matteo che cosa vuole fare vuole farci capire che il vangelo è un capovolgimento della logica che abbiamo di noi oggi con lo brano di questa parabola del capino 21 parla di figli uno il padre dice uno fai nella vigna il primo dice non voglio ma poi più tardi va a lavorare la vigna l'altro dice certamente ci vado ma dopo non ci va quindi siamo davanti a una contrapposizione ma che vuole dire matteo matteo vuole contrapporre i capi religiosi e giudei praticanti quelli che rappresentano la legge in realtà che rifiutano gesù mentre di fatto gesù è accolto dalle persone considerate più lentane dalla tradizione religiosa i peccatori le prostitute i pagani con l'immagine dei due filtri che cosa vuole dirci il nostro grande san matteo ci sono due tipi di persone da una parte quelli che dovrebbero essere di fatto più vicini a dio perché sono davvero persone deputate a questo e in realtà non lo sono dall'altra parte in contrasto ci sono i pubblici peccatori e i pubblicani come matteo le prostitute che vivono certamente in un modo non simile non rispettoso della legge ma che davanti alla provocazione del vangelo predicato da gesù si lasciano raggiungere da questa parola per cui gesù racconta la parabola iniziando anche con un confronto e di chiedendo un parere che ve ne pare e chiede un parere proprio a queste persone e oggi lo chiede anche a noi il primo figlio in realtà dice che non ci andrà ma poi fa quella volontà l'altro dice subito di sì ma poi non la fa evidentemente gesù qui sta rispondendo alla domanda delle autorità religiose le quali poco prima gli hanno detto ma tu con quale autorità fai tutte queste cose chi te l'ha data questa autorità vedendo nell'opera di gesù una sorta di giudizio verso di loro ma matteo tutto sommato sta avvertendo anche la sua comunità state attenti perché anche all'interno della chiesa potrebbe esserci il rifiuto di cristo anzi il rifiuto di chi pensa di credere e di appartenere alla chiesa può essere anche peggiore allora chi sono quelli che dicono sì e poi non fanno quelli che si credono giusti quelli che dicono signore signore in quella parabola del capitolo 7 la casa sulla roccia quando dicono dio ma non lo realizzano con la volontà e quelli che dicono no ma sono quelli che dal potere anche religioso sono ritenuti i più lontani da dio ma con la vita realizzano per cui importa rispondere nella pratica non chiunque mi dice signore signore ma chi fa la volontà del padre mio evidentemente gesù cosa vuole dire ai capi religiosi di ieri e di oggi che si credono giusti no mentre i peccatori e le prostitute di fatto sono migliori non perché abbiano una vita più retta assolutamente no ma perché proprio in quella loro situazione di povertà addirittura di miseria sono persone che si aprono che accolgono la parola che rispondono all'invito evangelico qui Matteo usa nel testo greco lui che uno scriva sapiente un verbo metamelenoma metamelenomai che significa in italiano ripensarci riesaminare la situazione ponderare provare anche disappunto quindi ritornare sulle proprie scelte potremmo dire no in ultima analisi uno ci ripensa e poi mette in pratica questo conta più di tutto perché a volte la parola può dire sì può dire no ma poi ciò che importa ciò che invera la nostra parola è la vita ecco perché gesù alla fine di questa parabola dice che i pubblicani e i peccatori ci precederanno proprio per questa disponibilità all'accoglienza quelli che sono più vicini a dio o credono di esserlo in realtà sono più lontani quelli che in realtà noi consideriamo più lontani di fatto sono più vicini alla volontà di dio ecco matteo sta far riflettere anche noi oggi chissà quante volte proprio noi cristiani pensiamo di essere i migliori solo perché siamo pronti a parole solo perché sappiamo dire sì per le nostre liturgie in realtà il vangelo al solito capovolge i nostri criteri ed è un'apertura meravigliosa alla novità di dio ecco perché gesù cita l'esperienza del battista no perché l'esperienza del battista e la sua parlano dell'accoglienza della volontà del padre la vera fede non può essere solo un'adesione interiore o intimistica addirittura la vera fede porta all'operatività chi ascolta medita prova nel cuore tanto gusto ma poi deve aver realizzato quello che ha sentito ecco perché gesù dirà pur avendo visto queste persone che si credono migliori non hanno realizzato che cosa realizzare la volontà di dio prestare fede anche agli inviati che dio manda e ha mandato giovanni battista poi ha mandato il figlio quindi in un certo senso è il monito di isaia hanno occhi e non vedono hanno orecchie e non ascoltano perché tutto sommato noi dobbiamo considerare qualcosa di importante in questo mangiare oggi alcuni criteri no chi sbaglia chi fa un errore chi dice no a dio dice il testo oggi ha la possibilità di pentersi ecco la buona notizia di oggi chiunque anche se messo contro dio ha la possibilità di ritornare a lui la conversione è un dono nessuno che abbia peccato è rinchiuso per sempre direi nella sua rivolta ma progressivamente ha la possibilità di riallacciare una relazione non perché parte da noi ma perché dio che ci viene incontro allora c'è anche un altro criterio che oggi il vangelo ci insegna l'uomo non va misurato nel tempo nel tempo immediato ma nel tempo lungo cioè noi dobbiamo guardare alla vita di un uomo sull'insieme del cammino compiuto non si può giudicare una singola azione perché dio ha pazienza dio vede dio sente in grande e nella sua macrochiumia come ci insegna a matteo cioè questa larghezza di animo dio ci giudicherà guardando a tutto il cammino percorso e quando vedrà che qualche volta ci siamo fermati siamo caduti ci siamo fatti male sorriderà chiedendoci di rialzarci con la sua grazia con la nostra vita cristiana è fatta di tante confessioni di fede potremmo imbarare a dire veramente signore aiutaci signore tienici la mano sulla testa signore aiutaci quando noi cadiamo perché davanti a dio conta non ciò che appare di noi agli altri ma ciò che davvero realizziamo davanti al suo volto per cui oggi dobbiamo davvero chiedere al signore tanta grazia tanta serenità perché siamo chiamati tutti a poter cambiare la vita e c'è sempre tempo per poter dire sì a dio pur avendo detto no c'è ancora tempo per dire lo voglio realizzare voglio che questo mangiare diventi una vita bellissime le tue parole anche oggi che abbiamo ripreso padre ernesto è difficile comprendere per noi chi siamo agli occhi del padre però effettivamente con il tuo aiuto c'è tutto più chiaro che dire abbiamo ricominciato a metterci in ascolto della parola di dio anche se non abbiamo mai smesso ma insomma con la tua presenza diventa tutto più semplice e il paradosso poi è questo anche del titolo conversazioni bibliche io taccio in ascolto così come tutti i telespettatori è bello anche questo contrasto con il titolo il nostro titolo anna maria conversazio significa proprio in termini più moderni più giornalistici quello che indica la parola la parola è la comunicazione di dio la conversazione che dio fa con noi tu ed io siamo due piccoli strumenti insieme a vito agli altri agli altri tecnici semplicemente perché questa parola raggiunga la persona ma è dio vuole conversare chiunque ci ascolta quindi siamo davvero bene 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 così meno male che lo hai ricordato anche a tutti quelli che ci seguono ti ringrazio di cuore anche a nome di tutti visto che mi hai provocato un'ultima battuta un grandissimo convertito dell'inizio del novecento clemente rebora che anche un nostro grande poeta in una sua poesia dice la parola tacque le chiacchiere mie ecco noi ci auguriamo che ogni domenica questa parola metta a tacere le nostre povere parole perché la parola possa sostenere le nostre povere parole buona pasqua della settimana buona pasqua della settimana padre ernesto e shalom shalom